Se siete veramente alle primissime armi con la sostenibilità, non sapete da dove iniziare, avete pochissime nozioni, ho trovato un libro che fa per voi. Imperfetto sostenibile di Camilla Mendini in arte Carotilla, la prima green influencer italiana. Il libro di Carotilla, in maniera semplice, molto semplice, molto veloce da leggere, dà tutte le informazioni base, corrette, su come approcciare, come iniziare timidamente a fare i propri primi passi nel mondo della sostenibilità. È un libro piccolo e quindi, secondo me, l'ho portata veramente di tutti e di tutte, che affronta vari temi, inizia con quello dell'abbigliamento, con cui lei ha iniziato proprio la sua attività di green influencer. È molto bello il capitolo sull'abbigliamento ed ha delle brevi ma efficaci informazioni a riguardo, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. È un libro molto pratico, in generale. Gli altri capitoli sono relativi ai cosmetici, ai detersivi, alla cura della casa, intesa anche in maniera più ampia, anche rispetto all'arredamento. Il libro parla anche di alimentazione, come fare acquisti e come cucinare, cosa cucinare. Ci sono diverse ricette anche nel libro. L'ultima parte del libro è molto interessante. Sono temi di cui io non mi sono più di tanto occupata per mancanza di esperienza personale, mentre Camilla, di esperienza personale, ne ha, ha due figli e nell'ultimo capitolo parla della sostenibilità nell'infanzia. Io credo che, se avete bisogno di un'infarinatura generale, questo è assolutamente un libro efficace. E poi da qui partite con Approfondire le cose.